Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Prudenza in FIPILI dove si registrano code a causa della viabilità esterna che non riceve allo svingolo di La Strassigna e pioggia allo svingolo di Empoli Ovest. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al chilometro zero dell'SP224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svingolo di via Quaglierina di Borno, per frana al chilometro 79-875 in FIPILI. La stradale 64 Porettana è chiusa tra Pavana e Ponte dell'Aventurina a causa di una frana. Vi ricordiamo di guidare con prudenza nel rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità, anche in ZTL e nelle zone 30. Moversi Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!